Buongiorno, siamo arrivati alla terza parte della teoria e pratica sul funzionamento dei forni a scatola. Quindi noi come sentinelli dell'energia vi daremo delle nozioni di base sui principi fisici e sulla matematica che sottendono il funzionamento dei forni a scatola. Perché diciamo base? Perché volendo è possibile affrontare la matematica anche per un forno a scatola più tosta e anche adottare dei protocolli sperimentali per caratterizzare i nostri forni abbastanza impegnativi. Però questi non sono accessibili a tutti, non sono di più immediata praticità e quindi cercheremo invece di darvi degli spunti per imparare a conoscere quali sono le caratteristiche del nostro forno. E ecco, questa slide dice proprio questo. Esistono protocolli sperimentali che ci permettono di caratterizzare accuratamente il nostro forno e le sue caratteristiche. Questi però richiedono delle strumentazioni avanzate, necessarie ad esempio per calcolare l'intensità della radiazione solare o per isolare alcune delle grandezze fisiche in gioco in modo tale da poterne determinare il valore. Ad esempio potremmo utilizzare una resistenza elettrica in un circuito elettrico per scaldare il forno e misurando la corrente che passa nel circuito calcolare le dissipazioni termiche e conoscere quindi le proprietà di inerzia termica delle pareti piuttosto che del vetro eccetera. E noi cercheremo invece di acquisire dei dati globali. E infatti vi vogliamo proporre un metodo un po' più semplice che ci permetterà di capire a che temperatura possa lavorare il nostro forno. Allora, per fare questo non dobbiamo far altro, dobbiamo partire dal descrivere il bilancio energetico del sistema fisico forno. In questo modo possiamo calcolare la potenza e la temperatura di esercizio del nostro forno solare a scatola. Questo perché è importante? Perché quando cuociamo del cibo bisogna tener conto che questo sottrae calore e potenza dal forno e quindi la temperatura di lavoro si abbassa. E' importante quindi sapere di quanti gradi si abbasserà la temperatura quando mettiamo del cibo a cuocere perché così possiamo capire quanto cibo possiamo metterci, a che temperatura lavorerà e quindi in base alle reazioni chimiche che intervengono in gioco e quali risultati di cottura possiamo ottenere. Allora, vedete un po' di zero grifici e non ve li starò a spiegare per filo e per segno ma cercherò di darvi l'idea di quelli che sono i bilanci di potenza. Praticamente abbiamo una potenza entrante nel forno e una potenza che viene sottratta dalla camera di cottura e in parte in maniera vera e propria e in parte implicitamente perché assorbita dal cibo. Allora, la potenza entrante viene innanzitutto in partenza dall'intensità, dalla irradiazione solare che abbiamo visto nella seconda parte della presentazione e abbiamo espresso in watt per metro quadro, no? Ed è per questo che l'intensità della radiazione solare, che è tutto questo termine che riassumeremo poi nella nostra esemplificazione con l'espressione W, racchiude in sé sia l'intensità dell'irradiazione solare, sia le proprietà di trasmissione, del coefficiente di trasmissione del vetro di chiusura, sia l'area, la superficie di chiusura del forno, sia anche le caratteristiche dei nostri riflettori di cui vi abbiamo sempre parlato nella seconda parte della presentazione con il coefficiente di riflessione e l'area, la superficie equivalente dei riflettori e in più c'è un termine che invece rende conto dell'assorbimento di calore dalla parte delle pareti, è un termine minoritario di cui comunque si può tener conto. Noi tutto questo lo inglobiamo in un parametro, in un termine W e questa è la potenza entrante. Dopo cercheremo di mostrarvi un po' di calcoli molto semplificati, cioè di dati molto semplificati in merito. Potenze uscenti. In che modo è S della potenza dal forno? Da una parte per le dispersioni termiche che dipendono dalla differenza di temperatura fra la camera interna e l'ambiente esterno, dalla superficie delle pareti laterali del forno e del fondo, ma in verità anche del vetro che è la parte che dissipa più calore e anche di questo vi offriamo delle descrizioni più dettagliate sul nostro sito come vi dirò fra poco e dalla inerzia termica delle pareti. Tutto questo nella nostra descrizione semplificata verrà sintetizzato con altri parametri, K1 per lambda su D e l'area la tradurremo in S, A la tradurremo in S. Questo secondo termine rende conto invece delle dispersioni termiche per il raggiamento che considereremo trascurabile nella nostra trattazione successiva e in più, come dicevo, l'energia ceduta al cibo che è espressa nella formula mcp per delta t e parlando, scusate, di potenze in questo caso mcp per delta t su delta t delta t che è l'intervallo di tempo. m è la massa del cibo posto in cottura e cp in calore specifico del cibo. In realtà dovremmo ricomprendere all'interno anche la massa e il calore specifico della pentola e potremmo fare un leggero aggiustamento dei dati. Allora, cerchiamo quindi di darvi dei dati essenziali sulla potenza a cui può lavorare il forno a scatola. Abbiamo visto nella seconda parte della presentazione che in condizioni di cielo sereno nella fascia oraria fra le 9.30 e le 14.30 grossomodo tra giugno e agosto la potenza solare a suolo è compresa fra i 700 e gli 800 watt per metro quadro può arrivare anche a 900 di picco. Abbiamo detto poi nella descrizione dell'equazione precedente nella slide precedente che un forno a scatola ha la capacità di captare questa potenza in maniera più o meno ottimale in funzione dell'orientamento rispetto al sole dell'efficienza ottica dei riflettori esterni del vetro trasparente di chiusura della trasmissione di radiazione da parte del vetro trasparente e delle caratteristiche delle pareti interne riflettenti oscure che convertono la radiazione solare in infrarosso la parte visibile della radiazione solare in infrarosso infine c'è l'efficienza termica del forno che incide anch'essa sulla potenza disponibile internamente tutto questo si traduce in una potenza disponibile in camera di cottura compresa fra i 105 e i 130 watt scusate questo senza tener conto dell'efficienza termica quindi solo dell'efficienza ottica dell'orientamento del forno rispetto al sole e in realtà possiamo arrivare anche un po' più su di 130 e detto questo a quale temperatura può lavorare il nostro forno vuoto? e in caso di cottura di cibo? temperatura a vuoto in verità a vuoto con a vuoto intendiamo senza cibo non senza aria e oddio in verità in questa equazione riportiamo la temperatura a vuoto senza nulla senza neanche aria ecco l'equazione che abbiamo visto prima un po' complessa e elaborata l'abbiamo semplificata si può dimostrare che la temperatura del forno a vuoto corrisponde alla somma della temperatura ambiente più il prodotto fra la potenza del forno quei 105-130 watt di cui abbiamo parlato prima moltiplicata per il rapporto fra l'unità e tutte queste serie di parametri k1 per s per lambda su d dove d rappresenta lo spessore complessivo tra le pareti il fondo del forno a scatola e il vetro di copertura quindi più spesso facciamo il tutto più tratteniamo calore dal k1 che è un fattore di conversione da kcal ora a watt ed è pari a 1,162 dalla superficie disperdente complessiva equivalente del forno che tiene conto sia della superficie laterale che della superficie di fondo che del vetro di copertura e da lambda che è il coefficiente di conduttività cioè quanto più sono conduttive le pareti il vetro e il fondo tanto più si disperderà calore e la temperatura quindi si abbasserà e abbiamo parlato abbiamo detto che si tratta di equazioni forse un po' complesse in realtà non è necessario che voi impariate per filo e per segno l'equazione l'importante è che riusciate a misurare con un termometro la temperatura tf del forno e questi termometri da forno si trovano nei più comuni rivenditori di oggettistica ma anche di materiali e ricambi per elettrodomestici se invece volete capirci un po' di più potete andare sul nostro sito alla pagina www.grupposelene.net si vuole un po' di fisica e forni solari e poi progettare nel caso in cui consideriamo anche il cibo in cottura l'equazione si complica un po' e si aggiunge l'elemento MCP che è il prodotto fra massa e calore specifico del cibo e appunto massa del cibo sottoposto a cottura e della pentola per la cottura del cibo CP calore specifico equivalente del cibo della pentola in cottura il valore di CP sembra complesso da ricavare in realtà lo possiamo trovare su internet abbastanza facilmente tendenzialmente espresso in joule per kg Kelvin o in kilocalorie per kg Kelvin nell'equazione c'è un errore perché in realtà K1 va a moltiplicare anche M per CP perché come abbiamo detto prima K1 è il fattore di conversione da kilocalorie ora a Watt qui sempre il nostro logo il nostro binocolo batteria è offertoci da una ragazza che faceva parte del gruppo giovanile informale del sentinale dell'energia Flavia Ferri che ringraziamo per averci fornito i suoi loghi ecco abbiamo riportato quelle equazioni che ad alcuni possono sembrare arabo e qui invece cercheremo di farvi capire come effettivamente si possono aiutare per capire a che temperatura possa lavorare il forno la riportiamo sopra e supponiamo di poter misurare solo la temperatura del forno con il termometro da forno che abbiamo visto prima e la temperatura ambiente e di conoscere la massa e il calore specifico del cibo in cottura l'equazione può essere riscritta in maniera semplificata in questo modo dove sostituiamo W con A K1 per S per N da su D con B e vediamo che possiamo ricavare A e B senza aver bisogno di altri strumenti di misurazione elaborati ma semplicemente facendo diverse prove di cottura e avendo appunto un termometro per la temperatura ambiente e un termometro da forno ad esempio possiamo misurare prima la temperatura che raggiunge a regime dopo il transitorio che abbiamo visto nella prima parte della presentazione su forni solari a scatola quindi la temperatura che raggiunge a regime il forno senza niente dentro in cottura e poi la temperatura che raggiunge mettendoci mezzo chilo di patate otteniamo un sistema di due equazioni non lineari anche qui abbiamo sostituito T abbiamo portato T A al primo membro e T F menti A l'abbiamo indicato con Y mentre M per Cp l'abbiamo K1 per M per Cp l'abbiamo indicato con X quindi abbiamo nel caso di forno senza cibo Y1 e X1 dove M e Cp sono la massa dell'aria e il calore specifico dell'aria nel caso 2 di mezzo chilo di patate abbiamo Y2 che è T F menti A sempre che sarà diverso dal caso di Y1 M per Cp che è dato dalla somma della massa dell'aria per il calore specifico dell'aria per più la massa delle patate per il calore specifico delle patate ovviamente la massa dell'aria sarà inferiore perché un po' di spazio è stato occupato dalle patate in questo modo abbiamo un sistema di due equazioni non lineari che possiamo risolvere ricavando A e B e si può dimostrare che fatti una serie di passaggi si ottengono queste espressioni per A e per B perché è molto utile questo? perché noi con questo semplice esperimento possiamo caratterizzare la potenza che entra nel forno le caratteristiche di inerzia termica di efficienza termica del forno e quindi se poi conosciamo il calore specifico e la massa di un altro cibo che mettiamo a cuocere possiamo prevedere a che temperatura lavorerà il forno e vi facciamo l'esempio appunto dei valori di A e B in caso di forno vuoto e di forno che cuoce mezzo chilo di patate ecco praticamente sapendo che senza cibo la temperatura del forno misura circa 180 gradi e che cuocendo mezzo chilo di patate questa arriva a 117 gradi e supponendo qui non l'ho scritto scusatemi che la temperatura ambiente sia di 28 gradi centigradi e costante e ricaviamo che A è uguale a 100 quei watt di cui vi abbiamo parlato all'inizio mentre B che rappresenta l'efficienza termica fondamentalmente complessiva equivalente del forno è pari a 0,644 presi questi due valori mettendo a cuocere un altro cibo possiamo prevedere che temperatura TF finale avrà il forno il nostro logo batteria esultante manifesta diciamo il nostro compiacimento per il risultato raggiunto ovviamente ci sono comunque degli errori di approssimazione perché l'intensità della radiazione solare come abbiamo visto cambia durante l'ora del giorno e anche la temperatura ambiente può non rimanere costante però grossomodo avremo un'idea con una buona accuratezza della temperatura finale di esercizio del forno un'ultima osservazione nel fare questi esperimenti vi consigliamo di non farli sostituendo mezzo chilo di patate con che ne so mezzo litro d'acqua perché questo perché l'acqua è una sorta di offre una sorta di limite alla temperatura che può l'esercizio del forno perché perché l'acqua ha un comportamento che varia nel momento in cui passa dallo stato liquido allo stato gassoso la transizione di stato richiede tantissima energia in che fa sì che quando l'acqua arriva a 100 gradi c'è uno scalino fortissimo da dover superare prima di superare i 100 gradi tutto il forno rimane a 100 gradi finché tutta l'acqua non evapora per cui se anche con le patate arrivassimo a 110 e con i calcoli teorici vedessimo che con il calore specifico dell'acqua arriveremo a 110 in realtà non è così perché nel passaggio di stato il calore specifico cambia tantissimo e quindi non ci verrebbero i risultati bene nella prossima parte vedremo in maniera un po' più intuitiva alcuni elementi di pratica di cottura e vi lasciamo quindi con questa sketch alla prossima presentazione sulla pratica di fornì a scatola non ciao non che ciao Grazie a tutti